Il corpo di Heidi Caterina Lindmayer era stato recuperato in un bosco a Capanna di Marcarolo, in provincia di Alessandria, ritrovato da un cercatore di funghi della zona. La donna, 53enne, era stata strangolata dal marito, Albert Gunther Schleicher, suo coetaneo. Il gruppo Tiziana Belgrano del Tribunale di Alessandria lo ha condannato a 4 anni e mezzo di reclusione, più 5 anni di interdizione, con lo sconto di un terzo della pena per via del rito abbreviato e con l'attenuante della parziale infermità mentale accertata dallo stesso tribunale. Omicidio del consenziente è il reato per cui è stato condannato l'uomo. In attesa delle motivazioni della sentenza, per ora si può solo presumere che sia stata accolta, almeno in parte, l'attesi della difesa, secondo cui il viaggio in Italia della coppia di tedeschi aveva come scopo proprio la loro fine. Un testamento redatto poco prima di partire dalla Germania darebbe peso a questa tesi. Gunther era stato ritrovato sotto shock nella sua auto, poco distante dalla scena del crimine e ha sempre sostenuto di aver ucciso la moglie per amore e soprattutto perché lei glielo aveva chiesto. Una malattia incurabile della moglie alla base della loro decisione. Anche lui, poco dopo il gesto omicida, avrebbe tentato il suicidio come convenuto con la moglie, ma il ramo non resse il suo peso e si spezzò vanificando il loro tentativo. Il pubblico ministero Fabrizio Alessandria aveva chiesto otto anni, ma il testamento, il viaggio in un periodo non estivo e soprattutto l'assenza di una reazione fisica allo strangolamento, devono aver convinto il tribunale alla condanna per il solo reato di omicidio del consenziente.